Queste le previsioni meteo per mercoledì 23 ottobre. Notte tempo e al primo mattino il cielo si presenterà molto nuvoloso coperto su buona parte della regione in virtù del transito di innocui banchi di nubi alte e stratiformi. La restante parte della giornata proseguirà con condizioni di cielo poco o parzialmente nuvoloso fatta eccezione per le ore pomeridiane in cui si assisterà ad un leve e graduale incremento della nuvolosità a ridosso dei principali contrapporti montuosi regionali ove saranno possibili precipitazioni sparse di debole e moderata intensità. Le temperature saranno stazionarie o in locali lieve aumento. Venti deboli da direzione variabile o a tratti assenti di notte al mattino in serata fatta con l'eccezione per la Sicilia meridionale ove, notte tempo, la ventilazione si disporrà da scirocco con moderata intensità. Nel corso delle ore centrali del giorno il vento spirerà al regime di brezza con debole intensità. Mari, quasi calmo o poco mosso il tirreno, mossi gli altri bacini. Queste previsioni sono fornite grazie alla collaborazione con il Centro Meteorologico Siciliano, sigle a cura di AP Web Radio e in Social TV.